Ma tieni l'attenzione sempre testa, tra le nubi non puoi lasciare la testa, dopo una curva non attraversare, perché non riusciresti ad evitare chi arriva molto svelto e chi non vede quando tu sulla strada metti il piede. Io ringrazio l'Arma dei Carabinieri, la compagnia di Larino, per aver permesso questa bellissima iniziativa che concerne l'educazione stradale ai nostri ragazzi in un progetto più ampio che è educare alla legalità. Con il progetto della cultura alla legalità dell'Arma dei Carabinieri abbiamo incontrato i ragazzi e abbiamo parlato loro dell'importanza della sicurezza stradale. E i ragazzi hanno risposto benissimo.